Eccoci pronti, venite venite, vogliamo farvi vedere quello che siamo riusciti a organizzare oggi per voi qui nella nostra sala delle feste all'antico borgo di Sutri in collaborazione con dei partner veramente di qualità. Ancora un'altra idea per il ricevimento e poi adesso volevamo presentarvi un'idea di un allestimento nuovo, sicuramente originale fatto con tanto amore, con uno studio, con dei materiali che abbiamo cercato, selezionato per voi e è questo in collaborazione con Paola Rossi, Valentina Melini e le nostre bellissime spose vi stanno inquadrando di qua è un'altra cosa bellissima che sicuramente abbiamo introdotto in questa occasione per voi un angolo di preziosi ancora un altro allestimento curato da Valentina Melini e le nostre bellissime spose Valentina Melini e Paola Rossi con i nostri materiali grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.